E ben a tutti ragazzi, io sono Riccardo e bentornati in questo nuovo video. Oggi siamo su Fortnite Perché voglio trollare tutti. Ora io ho la default e farò finta di non avere i valletti Quindi userò quello che ti danno all'inizio Avrò una default, non avrò gianetti, mi sono messo l'ombrelione default, il piccolo default e tutti gli altri Far finta di non avere il pass battaglia perché c'è un'ottigliazione Con il pass battaglia avete le robe In realtà io gioco della scorsa season ma è come se giocassi dalla season 4 perché giocavo sulla playstation di mio cugino Quindi spero di... ok, non ho messo in... Ne parca miseria, datemi una casa Non ho messo in... 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 Oh, zmiqui, zmiqui squali non mi ammazzate che direi che qui è un po' staccio e c'è una cosa che sapete scrivete sotto nei commenti se sono più veloci giocatori che nuotano veloce o gli squali perché devo dire io sicuramente non mi è mai fregato niente ma ora insomma la tecnica di non andare in acqua sarebbe buono non so ma è nura ma è pettacqua quindi è un pochino impossibile non andare in acqua ma allora lì aspettate ma se io sono scarso devo camminare così ok e qualcuno che non sa giocare a fortale farebbe così ora ragazzi che ludo no ragazzi fermo ma no 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 ma no 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 Tutto meglio, tutto meglio Vedo vedere che posso lanciare due tiravate così La pizzo ancora un po' questa Ah no Ti ho un tizzo cuore, vedete? No Quello che penso Si dai un cecchino Mannaggia sta nuova pompa Mi confondo sempre Perché questo nuovo pompa e il cecchino Sono quasi uguali Noiii Almeno caccia Possibilità Ma a farci notare il provera comando ok il 26 questo è questo era uno dei cinque volti dove dovevi fare la missione di Deadpool per avere il piccone, no il piccone si scioppava wow ho pingato delle munizioni cos'ha? what the? questo non lo sapevo lì sto scappando però non lo so non devi essere una canata pesca giulino è una leggendaria ma no si 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 cadu già quanto soffisce vai 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 rega il ciocchino il ciocchino ho anche la giampa ho anche la giampa e ora facciamoci una storia ora così e cerchiamo qualcuno ma oh stiamo in 20 stiamo in 20 come è possibile che non riesco a trovare 20 persone in una serfa così piccola grazie non ci credo è strabiliante per usare per usare non vediamo qua sotto non c'è nessuno qua sotto neanche qua sotto neanche qua neanche e poi neanche per usare per usare per usare per usare per usare per usare questo è possibile caccia io vedo porca no questa cosa non sono buono credo perché lo ho visto ma roma andiamo in zona va ma sarà la zona va ma sarà la zona c'è la zona ed ora c'è di da finito marò e che c'è l'amico zona push 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 boom ma non può scappare ma non può scappare toccavola maronna ragazzi porca miseria e mannaggia che vigliacchi che vigliacchi vabbè ragazzi 11 io sono in posizione spero che questo video vi sia piaciuto vediamo un secondo le sue armi non si è preso il mio cecchino quindi se vede che adesso mi stavo a fare gli scendini ho avuto un po' di botte di fortuna spero che questo video vi sia piaciuto non abbiamo vinto ma non è l'importante vincere l'importante è divertirsi e niente ciao ragazzi grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti